Il Comitato Festa San Rocco ha organizzato in occasione del Carnevale la terza edizione delle Allegre Mascherine. Col patrocinio del Comune di Rocella Ionica, nel pomeriggio di sabato, presso l'oratorio parrocchiale, si è svolta la premiazione delle mascherine più originali, allegre e simpatiche. A vincere il primo premio è stato il gruppo La Primaria, al quale è stata consegnata la Coppa della Vittoria. La serata è stata poi allietata da musica, balli e canti, all'insegna del divertimento di adulti e bambini. Il Comitato Festa San Rocco Il Comitato Festa San Rocco Il Comitato Festa San Rocco Il Comitato Festa San Rocco